Ciao a tutti e benvenuti o bentornati sul mio canale, ma soprattutto benvenuti o bentornati in questo nuovo video. Strano vedere una roba in mezzo. Con ospite. E voi vedete perché avete una cosa di metallo? Che ospite è questo qua? Che ospite è? È super metallico. Ma chi è? È un ospite. Un ospite. Un ospite utile per questo video. Questo video ha scelto di farlo lui, quindi... Quindi devo descriverlo io. A te gli onori di casa. Prima di tutto cosa bisogna dire a tutti? Perché se vogliono scoprire perché c'è questo ospite... Se devi farlo più in alto non si vede. Non nelle parti basse. Cioè io vorrei farvi vedere in che condizioni siamo messi per stare così, ma comunque lasciamo stare. Queste sono tutte idee sue. se non abbiamo dei mezzi adatti non è mica colpa mia. Va beh, vai. Va beh, siamo qui per mostrare le calamite. No, hai sbagliato, non dovevi dirlo. Prima di fare gli onori di casa. Siamo qui per farvi iscrivervi al canale. Ecco. Ecco. Iscrivetevi al canale. Attivate la campanella. Lasciare un like. Lasciare un like. Come ci sta bene però? Like! E poi? Eh, iscriversi. Mettere like, attivare la campanella. E se vogliono commentare. Se volete commentate. Però ormai è già spoilerato, quindi non posso neanche dire. Indovinate cosa faremo con l'ospite. Indovinate cosa faremo con l'ospite. Dai, dai, cominciamo allora. Dobbiamo raccontare la storia. Eh, sì. Non me ne ricordo più la storia. Qual è la storia? La storia è che abbiamo delle calamite che la Coop ha dato in omaggio con la spesa qualche anno fa. E noi ne abbiamo tutte. Abbiamo una collezione completa. E lui vuole farvele vedere. E io voglio farvele vedere tutte. Beh, sono veramente carine perché comunque sono prodotti in miniatura. Sì, sono prodotti della Coop in miniatura. Calamitici. E questo spiega perché abbiamo il ragazzo. Sì, perché se no non riuscivamo a farvele vedere. Esatto. Perché sul telo non si attacca. Cominci tu, vai. Comincio io. Allora, vediamo. Uh, io ho pescato le uova. È una confezione di uova. Vivi verde della Coop. È proprio il pacchetto uguale. Ce l'hanno proprio riprodotto fidelmente e hanno fatto la calamita. Questo è il pacchetto da sei. Vediamo, si attacca. Sì, è andata. Io invece ho uno shampoo della Coop. Voglio farglielo vedere più da vicino perché secondo me fa riflesso. Fa riflesso lo stesso. Shampoo Coop. Anche questo si attaccano. Sì, vai. Poi, uh, io ho una super buona la confezione. Oddio. La confezione della pizza. Pizza, due pizze margherita in realtà. Si attaccano? Io sto pescando cibo finora. Anche io ho pescato cibo. Spaghetti della Coop. Confezione di spaghetti da mezzo chilo. Uh, i tovaglioli. Giustamente per pulirsi. I tovaglioli. Eh sì, ci dobbiamo pulire la bocca dopo aver mangiato la pizza con le uova. Una pizza carbonara con le uova. E i tovagliolini. E vai. E poi un po' di liquido. Questa è una bevanda di mela ciliegia. Fai vedere. Mirtillo. Bevanda, uva rossa e mirtillo. Bevanda alla frutta con me. Uva rossa e mirtillo. No, ho mai fatto caso neanche io. Alla soia, mi pare, di leggere. Come fa ad essere alla soia? Se la volevo mettere lì io, cosa vuoi? Ah no, il benessere delle ossa, non so. Ah, guarda, rimaniamo sul tema confezioni da bere. Latte. Il latte della Coop. Parzialmente scremato. Origine Coop. Vai. Riso Carnaroli della Coop. Sai anche io al retro. Sono stra cute. Adesso a riviverle sono molto carine comunque. E siamo stati fortunati a riuscire a fare tutta la collezione. Cosa? Uh, ho pescato l'aceto balsamico. Guardate che carina comunque. L'aceto balsamico di Modena. No, della Coop. Un'altra cosa utilissima è la... L'asciugone. 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 La carta, la cucina, sempre della Coop. Secondo me quello è il retro comunque. È uguale. No, sono uguali, ok. Da che parte si attaccherà? No. C'è un verso, eh. Ok, andiamo avanti. Uh, bella la passata di pomodoro. Comunque sono davvero troppo carine. Si sta un po' staccando l'etichetta. Stacchiamola. Vai. Andata. E qui abbiamo il detersivo per piatti. Ad esempio della Coop. Yeah. Ma io adesso pesco una cosa bellissima. Questi qua sono troppo carini. Gli omogenizzati in miniature. Ci sono proprio dentro i barattolini. Guardate che belli. Sono veramente carini. Omogenizzati crescendo Coop di vitello. Sembra che stiamo facendo la pubblicità. Esatto. E qui un'altra cosa bellissima. Abbiamo i frollini cacao e biscotti della Coop. Il retro. Ci sono i biscotti dentro? Può darsi. No, è buono. I mini biscotti non ce li ha messi. Eh sì, perché anche i nostri amici animali hanno diritto di mangiare. Hanno fatto la calamità anche per loro. Questo qui è quello del cibo per gatti della Coop. Guardate che carino è micina. È troppo chiotto. Qui abbiamo sempre per la colazione delle ciambelline della Coop. Double fast. Double fast. No. L'hai messo nella parte sbagliata. Ci hanno un verso quindi bisogna stare attenti. Oh. Ah. Questo è un po' qualche problema di stabilità. Stabilità. Perché lì va? Ma. Non è sceso anche di un millimetro. Ma va. Andiamo andiamo. Ho pescato. Uh. La marmellata solida della Coop. Ma non è marmellata. È Nutella. Cos'ho detto? Marmellata. No, volevo dire Nutella. È uguale. Beh, la crema spalmabile. Nutella ciocchette. della Coop. Molto carino. Anche questo barattolo. Guardate come le rifiniture, il tappo. Molto molto bello. Tec. E poi abbiamo il parmigiano reggiano. È parmigiano o grana? Parmigiano. 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 Parmigiano reggiano. Quello fatto bene. Tutto il contenitore. Tutto. Con i valori nutrizionali. Tutto. E io invece ho preso la crema corpo nutriente. Anche questo. Ma guardate come sono fatte bene. Sono troppo belle. Cop, quando è che rifai una collezione così? Mi piace troppo. Ne voglio un'altra. Voglio fare un'altra collezione. Sono ancora un sacco qua. Qui abbiamo. La poppa per i cani. Abbiamo il cibo per i cani. La poppina per i cani. I croccantini per i cani. Qua. Laila. Sbucca fuori. Siamo un po' gli sgoccioli eh. Uh. Io ho pescato gli yogurt anche qua con i barattolini all'interno. A me piacciono un sacco. Penso che tra le mie preferite questi qua. Gli omogeneizzati e gli yogurt. Perché mi piace veramente vedere il packaging con anche i bicchierini dentro. Troppo figo. Dai mettiamoli qua in alto. Fanno un po' di colore. E poi qui abbiamo l'olio. Dici che c'è dentro un po' di olio. Sì certo. Olio. Original. Original. Certo. Qui. Solo. Solo roba buona. Solo roba buona. Solo roba buona. Niente. È un doppio. Qui ne pesco un altro. Eh. No dai. Pesca tu. Perché? No. Peschi tu. Pesco io. No. Pesca tu. Sì. Ammorbidente. Perché poi ci si deve anche lavare. Via. Poi qui abbiamo. Biologico. Degli hamburger di shaitan biologici. Eh beh. Anche quelli. Ci stanno. Ci stanno. Non me le ricordavo tutte. Devo dire la verità. La linea biologica. Belli. Belli. Ecco. E questa è la collezione completa. Perché noi ce l'abbiamo tutta. Però. C'è un però. Perché. Questa è la mia collezione. Poi lei ce n'è una. Un'altra. Ma lei ha una calamita che non ha. Perché non è. Della collezione copp. Della copp. Ma l'ho trovato in un nuovo di Pasqua. E per chi ha visto tutta la serie della Pasqua estiva dell'anno scorso. Ecco. Finalmente saprà cosa stavo cercando. Esatto. Stava cercando. Ho dovuto fare questo video. Esatto. Per farti rosicare un po'. La tavoletta di cioccolato Emilia. Questa era dentro. E ce l'ho solo io. Solo io. Ed è come dire. La ciliegina sulla torta di questa collezione eccezionale. Tac. Non è giusto. Non l'abbiamo neanche contato. Ecco perché hai voluto fare questo video. Certo. Per farti rosicare un po'. Sei indicibile. Bella eh. Contiamo. Uno. Due. Tre. Quattro. Sì infatti hai ragione. Tira. È mia. Quella lì dove la devi avere. Quella lì è mia. Questo è un furto. Adesso io non te la ridomero mai più. Comunque spiegati perché ho solo un doppione di questo. Non lo so. Se non si sa. Vabbè. La smetti. Quella lì è mia. No è mia. No è della mia collezione. Hai voluto fare il video. Questo qui il pagamento per aver fatto. No pagamento niente. E' mia. E' mia e rimarrà mia. Oh finalmente la calomita. E' mia e rimarrà mia. Non creda che me la rompi. E' mia. Ma se non la rompo a me stesso. E' mia. No. Così magari lo vedono anche un po' meglio. Queste sono tutte le calamite. E niente ragazzi. Se il video vi è piaciuto lasciate un like. Se non vi siete ancora iscritti iscrivetevi al canale. Se non attivate la campanella per rimanere aggiornati ogni volta che esce un nuovo video. E scrivete nei commenti secondo voi chi dovrebbe avere questa calamita. No. Non scrivetelo. E' mia e basta. No. Scrivete che me la deve regalare perché a me piace troppo. No. Ti regalo questa. No quella lì non la voglio. Io voglio questa. Quella lì è mia. Smettila. Mettila giù. No. Me l'ha ripresa. Non vale. Sei cattivo. Non mi hai ancora detto qual è che ti piace di più però. Te l'ho detto. Gli omogenizzati. E a me non chiedi quello che mi piace di più. A te quale piace di più. Mmm. 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 Le pizze. Solo perché vuoi mangiare la pizza. Le pizze. No bene. Quindi quelli vicini. No bene. Pizza omogenizzati qua vicini che si danno i bacini. Sì. Pizza omogenizzati. Pizza consumo omogenizzato. Che schifo. Anche il riso. No dai la pizza la pizza. Perché è fatta bene tutta la scatola. Facciamo la pizza consumo omogenizzato. Ci può fare. Che schifo. Allora se questo video arriva tipo a diecimila like. Facciamo una pizza con sopra un omogenizzato. Tanto non ci arriverà mai. Perfetto. Eh. Di ciao. Io avevo già detto ciao prima. Poi ci siamo dilungati. Vabbè. Ciao ragazzi. Alla prossima. Ciao. 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 Non è giusto. È mia. E mia rimarrà per sempre. Ma poi l'attaccherai al frigo. No 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 no. Grazie a tutti.